Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo qui con la nuovissima live reaction Stiamo per iniziare adesso la partita Roma-Benevento, speriamo bene Giallo-Rossi contro Giallo-Rossi Il Benevento fino ad adesso ha più punti della Roma E ecco la partita inizia adesso quindi speriamo bene Speriamo di vincere Portiamoci a casa questi tre punti Madonna Che fortuna Oh a noi mai sta fortuna Visto Vai Vai Tiro Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì si che palla o che palla mirante a me palla o mirante non è brutta bello siii bello 3 a 1 almeno che non il primo tempo così regolare non è buono ah non lì hai visto? non lì non lì non lì perchè mi regate la buona che questa palla il mio tempo 2 a 1 ho quanto il tempo che finiscono 3 a 1 2 a 1 2 a 1 dai si ricomincia speriamo bene dai 2 a 1 speriamo di vincere il passaggio mirante vere tu con la punta del piede prende il pallone ma con un'altra parte del piede fa calcio di rigore giallo a vere tu e il rigore con il benevetto siiii ma non ci bello bello che sfiga che sfiga nooo mamma mia mamma mia nooo eh quando è fuori gioco la prendono sempre bisogna di ritrovare le certezze di ritrovare qualche giocata cattiva mentre qui geno arriva su quale parte vedo che ne è servito da geno con lui sto cercando con te nooo oh hai ricordi eh in che nuovano sui mani del portiere veramente quello che ragionabile per come era giocabile per la tiglia precedentemente non deve capire come sia stato l'impatto gran palla di gente il solito Pedro a fare la differenza sposta la palla a Pedro eh sì, è a rigore dai Giorgio senza paura sì e dai e dai cavolo tenetela non fate errori non fate cavolate mortangoli vostra dai cavolo bella vai vai sì è buono tanta roba oh bello dai un tra due oh tira mamma mia amico amato eh amato colato con due bello dai 5 a 2 dai 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 dai